Ciao a tutti, oggi ci sono state le campane.it, abbiamo un ospite che condivide l'esperienza del teatro Oscar, un'iniziativa ricca dal punto di vista della proposta culturale e dell'esperienza umana che ci va intorno. Abbiamo già avuto due ospiti che ci hanno raccontato sia del teatro che dell'iniziativa di una lettura e oggi abbiamo con noi Gabriele Allevi che nella sua storia di attività culturali sul nostro territorio ha costruito diverse realtà, ci propone una lettura sul tema della libertà che sta proprio nel filone, nel solo proprio di quanto gli amici Luca Donivelli e Giacomo Poretti ci hanno già presentato. Gabriele, spiegaci perché l'attualità di leggere più di oggi e aiutaci anche a capire come hai scelto, in cui manderemo uno spezzone di presentazione, ci può aiutare alle esperienze che stiamo facendo oggi? L'iniziativa parte proprio dalla considerazione della situazione in cui stiamo vivendo, sostanzialmente siamo reclusi in casa e come dicono alla breve introduzione sentiamo una grande anelito di libertà, consideriamo importante la libertà come il desiderio di uscire, di viaggiare, di incontrare quello che potevamo fare prima della reclusione dovuta al virus, ma questo anelito mi faceva sempre più stridore con la necessità di essere in casa, allora dico chi si può essere liberi stando in casa? Da questa domanda anche sulla suggestione di molte letture che stanno girando in questo momento qua, non so se è l'ultimo libro di Van Tuan, questo vescovo vietnamita che è un esempio strepitoso di libertà, pur essendo in galera oppure mi viene in mente una giornata di Ivan Denisovich nell'arcipelago gulag di Solzhenitsyn e altre cose, effettivamente dipende come si guarda la libertà, dicevo, si può gustare la libertà sempre, non c'è un momento, un luogo in cui uno non possa essere libero, purché non si considera la libertà in maniera banale, cioè il fatto di poter uscire, di poter muoversi liberamente, di poter decidere liberamente nel proprio tempo. La libertà è un'altra cosa, completamente un'altra cosa. Allora mi è venuto in mente questo meraviglioso brano in cui rovescia la prospettiva, è Dio, il creatore, che sa come è fatto l'uomo, che guarda l'uomo con trepidazione e dice ti aspetto, aspetto solo te, aspetto che tu mi preferisca, perché se tu facessi questa cosa sapresti che la libertà è dare il cuore a qualcosa che lo merita. Mi veniva in mente anche la frase di San Tommaso che dice la vita dell'uomo consiste nell'affetto che principalmente lo sostiene e nel quale trova la sua più grande soddisfazione. Allora la libertà è trovare questa soddisfazione e la soddisfazione sia quando tu questa vita la dai per qualcuno che lo merita. E allora questo brano di Peghi meraviglioso dove dice si mette nei panni di un padre che ha la sua più grande soddisfazione nell'essere amato da adulto liberamente e gratuitamente da suo figlio. Mi sembrava un contributo utile. Grazie Gabriele, grazie Gabriele Allevi. Tre cose velocissime, il tuo accento, la tua calata, la tua parlata dice dell'appartenenza alla terra bergamasca, un luogo e una terra duramente provati da questa emergenza e dalla malattia. Tu stesso e la tua famiglia ne siete stati toccati e lo sappiamo. L'esperienza del teatro Oscar, ci diceva Giacomo Poretti qualche giorno fa, è nata nel momento peggiore, c'è anche su una sua intervista ad avvenire in cui poteva nascere, ma è accumulata dal fatto che forse l'onda sarà più lunga di quella che ci si aspettava magari anche inizialmente, l'onda che porterà a non poter rientrare magari in assembramenti, in teatri, in luoghi dove ci sono assembramenti e quindi tenere destra comunque la vitalità, la vivacità della cultura, del poter leggere delle pagine è sicuramente un'iniziativa che ci fa piacere, che stiamo cercando di fare da più di un mese ormai anche con suonate le campane. Un ringraziamento quindi a lui, a Luca Doninelli e anche a Giacomo Poretti che abbiamo già avuto su queste pagine virtuali e un ringraziamento a Fulvio Mattone, da me che sono Valtermuto. Lo avete visto leggermente in fuori sincrono in questa trasmissione che si appoggia sulle piattaforme che conosciamo e che danno qualche problema tecnico, ma questo non ci fermerà. Grazie davvero e ascoltiamoci appunto questa pillola di Peghi rimandando ai vari canali che saranno descritti appunto nei posti o in didascalia su cui godere della lettura diciamo integrale di questo passo di Peghi. Grazie a tutti. Chiedete a un padre se non ci sia un'ora segreta, un momento segreto e se non sia quando i suoi figli cominciano a diventare uomini, liberi. E lui stesso lo trattano come un uomo, libero. L'amano come un uomo, libero. Chiedetelo a un padre i cui figli stiano crescendo. Chiedete a quel padre se non ci sia un'elezione fra tutte e se non sia quando la sottomissione precisamente cessa e quando i suoi figli, divenuti uomini, l'amano. Lo trattano, per così dire, da conoscitori, da uomo a uomo, liberamente, gratuitamente. Lo stimano così. Chiedete a quel padre se non sa che nulla vale uno sguardo d'uomo che incontra uno sguardo d'uomo. Ora io sono il loro padre, dice Dio, e conosco la condizione dell'uomo. Sono io che l'ho fatta. Non chiedo loro troppo. Non chiedo loro che il cuore. Quando ho il cuore, provo che va bene. Non sono difficile. Tutte le sottomissioni da schiavo nel mondo non valgono un bello sguardo da uomo libero. O piuttosto tutte le sottomissioni da schiavo nel mondo mi ripugnano e io darei tutto per un bello sguardo da uomo libero. Grazie.